Siamo sulla piattaforma del Waterfront di San Girolamo. In questo mese abbiamo come Commissione continuato tutte le attività di segnalazioni di alcune problematiche e criticità che ci sono nei nostri quartieri, quindi continuate sempre a contattarmi perché poi noi tutte le segnalazioni che ci vengono inoltrati dalla cittadinanza diamo continuità con degli atti amministrativi concreti. Abbiamo anche svolto due consigli di municipio che sono quelli che hanno fatto seguito alle istanze che avevo promosso il mese scorso. Abbiamo svolto un consiglio di municipio sugli allagamenti del Municipio 3 e ho consegnato all'assessore Galasso una mozione urgente. Il dossier è praticamente composto da tutte le segnalazioni, video, fotografie che mi avete inviato e che costituiscono poi la problematica che c'è nei vari quartieri del nostro municipio, ma in realtà in tutta la città di Bari, quando ci sono delle piogge torrenziali. E invece ieri proprio abbiamo svolto un altro consiglio di municipio per la carenza del personale al Municipio 3, che ormai diventa un problema strutturale perché si sono verificati veramente delle inefficienze incredibili, oltre ai ritardi nei bandi. E lo stesso direttore di municipio non appena ci ha sollevato la problematica siamo immediatamente, abbiamo fatto seguito immediatamente con una richiesta di consiglio urgente. Sono contento che ieri lo abbiamo fatto alla presenza di La Coppola, dell'assessore La Coppola e quindi abbiamo chiesto di dare almeno tre unità al Municipio 3 di risorse umane e o comunque diciamo di risolvere quelli che sono i problemi critici da un punto di vista di esigenze della pianta organica. In questo mese inoltre ci sono state tantissime iniziative perché chiaramente i centri estivi ben nove nel nostro municipio che è uno dei municipi più rappresentati da attività ludiche, rivolte ricreative, culturali, rivolte ai ragazzi. Ci sono stati anche degli episodi particolari, faccio riferimento in particolare alla caduta del balcone che c'è stata dalle case popolari nella zona della Chiesa San Paolo. È stato in un certo senso un modo per fortunatamente riportare all'attenzione dell'amministrazione, anche regionale, l'opportunità di intervenire in maniera organica e strutturata su questi che sono problemi che ci sono nelle palazzine del quartiere San Paolo ma anche in altri quartieri del Municipio 3 di una manutenzione che deve essere ordinaria. A riguardo, dopo aver sentito le dichiarazioni dell'amministratore unico De Nicolò che ha fatto la stampa, dove ha dichiarato che sono circa 20 anni che non ci sono contributi statali a riguardo, ho promosso una raccolta firme per un'interrogazione parlamentare dove noi chiederemo al Governo di capire se e perché non vengono dati i finanziamenti da 20 anni che spettano all'ARCA e alle agenzie che quindi in un certo senso gestiscono l'edilizia pubblica e di conseguenza quali sono le azioni che poi si possono fare per ovviare a quella che deve essere una manutenzione non straordinaria quando c'è l'evento critico che fortunatamente in questo caso specifico non ha portato problemi a persone mentre i danni alle cose ci sono state ma soprattutto provvedere in maniera organica e strutturata con una manutenzione ordinaria. Continuano inoltre i lavori della Commissione Speciale, abbiamo fatto tantissimi passi avanti circa 400 fotografie abbiamo raccolto, di queste ne abbiamo scremate circa 132 e abbiamo proprio oggi consegnato le fotografie alla giuria di valutazione gli step sono i seguenti, tutto il mese di agosto e metà settembre la giuria di valutazione farà un lavoro per selezionare le fotografie che poi faranno parte della mostra fotografica a settembre ci incontreremo quindi con la giuria di valutazione e organizzeremo per il mese di ottobre o novembre una conferenza stampa di presentazione dei risultati. Poi siamo in campagna elettorale, ho scritto un post proprio in merito a questo perché incominciano a succedere le classiche situazioni che tutti noi conosciamo e che succedono spesso in campagna elettorale, cioè di cambi di paradigma, di approccio di alcuni personaggi ovviamente questo fa parte del contesto però veramente io quello che mi sento di dire a tutti quanti noi è di andare a scegliere, a prescindere dall'ideologia politica ma soprattutto persone che conosciamo che sono sui territori, non persone che in un certo senso vengono calate dall'alto e con cui poi non c'è possibilità di fare un'interlocuzione reale che possa andare a risolvere i problemi perché io credo davvero che il nostro mondo può cambiare, la nostra Italia può cambiare anche dalle scelte che tutti noi facciamo nella cabina elettorale dove a prescindere da quello che ci viene detto di fare dagli altri noi in coscienza possiamo effettivamente esprimere un giudizio non voglio dire alla meno peggio ma perché non ci dobbiamo nemmeno accontentare del meno peggio scegliere in maniera consapevoli chi ci potrà rappresentare ora invece sono qui non a caso perché sono anche contento di farvi vedere in diretta che il primo locale qui del Waterfront di San Girolamo è stato effettivamente assegnato anche se in via temporanea ad un'associazione, la scuola Surf Big Air che praticamente sta portando avanti un progetto promosso dalla nostra commissione al Municipio 3 sport acquatici per ragazzi del Municipio 3 dai 7 ai 17 anni sono aperte le iscrizioni, le attività partiranno praticamente fin da questa settimana e quindi è ancora possibile iscriversi andando direttamente contattando i servizi sociali del nostro Municipio io continuo ad essere sempre a vostra disposizione potete contattarmi come sapete alla mia mail stefano.franco.bari.it tutti gli aggiornamenti sempre pubblicati sulla mia pagina Facebook io sono sempre a vostra disposizione che quartiere ma che grande quartiere questo periodo di agosto ci saranno tantissime iniziative nei nostri quartieri io le pubblicherò proprio in corredo al commento che farò su questo post così tutti quanti noi possiamo godere delle cose belle che succedono nella nostra città ma anche nel nostro Municipio a presto ci vediamo ciao